Ennesima notte movimentata nel centro di Arezzo, c'è stata l'aggressione ad un uomo ferito con un'arma da taglio, poi trasportato al pronto soccorso. Potrebbe essersi consumata nell'ambito dello spaccio di droga l'aggressione al 25enne, nato in Italia, magrebino di origine, avvenuta stanotte nei giardini di Campo di Marte ad Arezzo, dietro la stazione ferroviaria. Non mi sento tanto sicura perché ci succedono anche altri posti, altre città e tutto, perché non ci succede solamente in Arezzo, ci succedono anche altri posti, perché in tutti i posti non siamo tanti sicuri. L'uomo è stato raggiunto ripetutamente da colpi di arma da taglio. Gli inquirenti stanno verificando se si sia trattato di un coltello o di un collo di bottiglia rotto. Il 25enne è stato aggredito intorno alle 3.30 del mattino, poi soccorso dagli operatori del 118 in Piazza della Repubblica, non nel luogo dell'aggressione, ma a pochi passi di distanza. Io personalmente non ho mai avuto problemi. Negli ultimi tempi sicuramente si sente parlare di tafferugli, risse, violenze per le strade, cosa che io sono residente qui da molti anni e una volta non era così. C'era sicuramente molti meno di questi episodi, però tutto sommato non credo sia meno sicura di altre città. Ultimamente vedo molto più attive le forze dell'ordine, in questo senso qualcosa è stato fatto. Tra l'altro in una parte centrale, di fronte alla stazione. Sì, la stazione è frequentata notoriamente da personaggi poco raccomandabili. Ultimamente vedo molte più pattuglie che sorvegliano. Ci dovrebbero essere di più, secondo te, di forze dell'ordine in giro o appunto forse non... No, io credo che facciano quello che possono. Quando accade qualche episodio intervengono abbastanza tempestivamente, quindi penso che da più di così non si possa fare molto. Sul caso indaga la squadra mobile della questura di Arezzo, diretta da Sergio Leo, al momento gli inquirenti non sono stati in grado di parlare con il 25enne per le sue gravi condizioni di salute, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Per quanto riguarda l'aggressore, potrebbe avere le ore contate.